Riparte l'impegno del comitato dopo le lettere di sproprio che sono arrivate e riparte da un luogo simbolo del fiume Entella. Dove ci troviamo? Qui ci troviamo alla Force dove dalle immagini è più che evidente, senza bisogno di troppi commenti, come la situazione di oggi. Noi sappiamo che già nei documenti del piano di tutela della costa si prevedeva addirittura nel 2012, su analisi del 2010, un 300.000 metri cubi in più da rimuovere. Anche i comuni hanno fatto delibere in tal senso. A questo si aggiunge, se si vuole davvero sistemare il fiume in maniera più definitiva, il fatto che è evidente che una Force è così. Sì, è giusto rimuovere i sedimenti in più. Un colpo ancora migliore sarebbe orientare diversamente la Force, come era una volta che virava verso destra, e probabilmente i problemi sarebbero risolti per sempre e questo evidenzierebbe ulteriormente come la famosa diga per figli non avrebbe ragione di esistere. Sono arrivate le lettere di esproprio, quali passi successivi che farete per cercare di fermare l'opera? Beh, è evidente che noi cercheremo di fare il possibile per bloccarla. Siamo un pochettino in fase avanzata del progetto e dell'inter dei lavori, però noi faremo quello che nelle nostre possibilità di fare, cominciare appunto con una richiesta di indenizzo dei terreni che perderanno valore dopo l'edificazione di questo proprio. Cercheremo, se è possibile, faremo una consulta con dei nostri avvocati, di fare un ricorso contro gli esproprii e soprattutto cerchiamo di dar voce all'opinione pubblica sia di noi proprietari ma anche dei cittadini, di dar voce al netto dissenso per la costruzione di quest'opera. E' una cosa che noi preghiamo assolutamente, il presidente della regione Totti, il sindaco della città metropolitana Bucci, che io considero persone di buon senso, al di là delle idee politiche non mi interessano, di venire un po' qua a visitare e a vedere.